ciao a tutti nuova postazione perché io mai giro la stanza spero che la luce sia giusta che la location mi piaccia con il letto alle spalle qui sono sul tappeto vi faccio vedere l'olla della spesa la mia spesa una spesa fatta in due tre punti allora queste cose qui le ho prese un po la tigota un po la carrefour un po in giro iniziamo con i misura dolci essenza i miei biscotti preferiti a 2 euro e 39 dal carrefour dipendito solo dal carrefour perché la coppia non li trovo molto buoni poi fette biscottate carni perché ho preso la marmellata mi piacciono quindi voglio sostituire che mi piacevano le fette biscottate e le mettere sopra perché mi sono messa quando quando avrò voglia di dolce mangiare queste con la marmellata e sarò contenta e forse più magra queste qui un euro e qualcosa meno 05 poi ho presa 99 il succo alla pesca succo alla pesca e succo tropicale mi sono i miei preferiti con la bico che è un po acido ecco l'arancia è acido quindi non mi piacciono questi sono buoni sono troppo troppo buoni poi 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 ho preso l'attività ho preso questi tenderly che erano aperta 1,35 euro mi sembra se sentite parlo con il naso perché ho un raffreddore allucinante da domenica siamo a giovedì e non mi si toglie da sabato non mi si toglie il mal di goda e la febbre sono passati subito e il raffreddore non si toglie e va bene poi ho preso l'altro calcare della home circus sempre da tigota costa molto molto meno che il calco anche il calco mi è arrivato a quasi 6 euro questo aiuto comprato sui 2 euro qualcosa della home circus sempre da tigota poi affida anche la scatoletta non perdere poi ho preso sempre sto spostando tutto ah l'isoform WC 0 calcare al lime solo perché verde si vede perché qui i trasparenti secondo me non vedi dove va quindi per forza devi prendere o blu o verde adesso c'è anche rosa quindi siete amanti del rosa c'è anche rosa quindi questo era in offerta 99 centezze subito ho preso e io mi trovo bene con il lisoform per lavare i paletti mi trovo bene anche con questo poi a un euro e tanti ho preso questo panno carta che mi serve per le pulizie di casa io ho tipo i vetteri tipo il bagno non mi fido a pulire con le spugnette quindi uso il panno carta quindi uso il panno carta e butto strantilla sono manata delle pulizie quindi poi ho preso sempre la tigota questa è costata quasi 9 euro quindi acqua di rose crema viso e rivitalizzante idratante pelli normali e miste mi trovo bene con il tonico quindi devo provare anche questo questo a 9 euro da tigota c'è per vari tipi di pelle c'è il siero, contorno occhi c'è un sacco di detergente viso, tonico c'è un sacco di cose poi dai cinesi a 1 euro mi sembra le mollette ho preso queste per chiudere gli indumenti quelli appesi per non far cadere dagli appendini poi la mia cara mamma si le ho preso le ho preso l'alpide mi ha preso dai cinesi queste calzine carine aspetta faccio vedere che hanno dritto Magari Quale nuvolette che ridono Sono innamorata Poi mi ha preso quelle Con il coniglietto Ho 30 anni Ricordiamocelo sempre E queste con lo scogliattolino Basta La mia figura di M l'ho fatta Oggi va bene Ultimo ultimo acquisto Ultimi due Da Tiger A un euro Ho preso il coprispazzolino C'ha la mollettina Poi è bello Grande Sapete lo spazzolino con l'elettrico? Io ce lo voglio mettere sopra Sembrava utile Sapete che lo spazzolino In teoria Non dovete lasciarlo Scoperto in bagno Se no sapete ve lo dico io Dovete comprare questi cosini qui E chiuderlo Dopo che l'avete utilizzato Lo sciacquate e lo chiedete lì E' meglio In farmacia Non pensavo mi ha stupito la commessa La ringrazio pubblicamente signora commessa Ho comprato a 6,50 euro questa acqua por che sarebbe una pomata trasparente che aiuta la pelle secca molto molto secca Io la do intorno al naso per via del raffreddore che mi ha distorto il naso ed è fantastica Io ve lo consiglio Questa sono due tubetti da 10 ml e viene 6,50 euro Però c'è la confezione quella così 10,50 euro Però veramente Poi è ulceria A me è ulceria che mi piace La signora tanto tanto gentile mi ha dato Mi fa Ti vedo che hai una pelle mista Dicevamo L'ha commessa tanto 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 gentile Mi ha detto Tu hai la pelle mista E io Aspetta Una che sa riconoscere la pelle mista Io sono rimasta così Ti do a provare questo Infatti io volevo saccheggiare il cassetto dei Dei campeoggi Dammi tutto Mi ha dato questo Che sarebbe un Cleansing Gel Dermopulificante Oil Control Quindi molto molto utile E mi ha dato E' presto però te li do anche a te La mia ossessione di questo periodo L'acido ialuronico Perché credo che lo metterò Qui Dovevo un po' di rude Mi appiana tutto Se mi piacerà lo devo comprare E spenderò tutti i soldi Bene Poi ho preso come ultima cosa Sempre da tutta Sempre per le labbra distrutte dal raffreddore Il glicemil stick labbra nutrente Con un SPF 15 Molto molto carino Anzi non lo do perché C'è un po' secchino Mi ha ristabilito un po' le labbra Oltre a quello che ho fatto vedere prima Che sarebbe questo Io ne ho finiti non so quanti di questo Cioè lo uso a mia Io Lo uso a fidanzato Ed è fantastico Compratelo Compratelo La risolve qualsiasi pelle secca La risolve Screpolata Arrossata Te la risolve a lui Lui Compralo Mia mamma mi ha comprato anche Questo cappottino fighissimo In stile tartan Che va molto quest'anno Si chiude solo all'inizio Una cerniera solo al collo Poi rimane tutto aperto Niente Me l'ho dimenticato Ve lo faccio vedere adesso Vi lascio il resto del video Ciao ciao E niente Va bene Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un commento Su cosa avete compratto voi Dai supermercati Perché io sono una fan sfegatata Della spesa Io adoro la spesa Fin da quando ero piccolina Così che ci andavo con la mamma Adoravo stare nel carrello Non lo so Ero fantastico Poi quando ti dicono Non ci entri più Sei troppo grande No Finisco di fare la cogliona Lasciate un like Un commento Ci tende moltissimo Iscrivetevi al canale Azionate la campanella Se no non vi arrivano le notifiche Questo canale andrà alla deriva Io vi mando un grosso bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti